Ciao ragazzi, allora qui sono due giorni che piove, mica da ridere, io tutte le volte che piove sto sempre di più qui dai cani perché a loro piace prendere la pioggia, a me anche, ma qui adesso ha smesso di piovere forte, piove ancora ma piove piano e quindi è proprio una goduria, adesso se riesco a passare dall'altra, a stare qui con l'oro e vederseli come se la godono, gli animali hanno bisogno della pioggia come tutta la natura, come le piante, come l'erba e io che sono mezzo animale ho bisogno anch'io della pioggia, adesso mi saltano tutti Allora, vi faccio questo video perché è una diretta, non volevo farla troppo lunga a venire eccetera Allora per dirvi che parecchi stanno già aderendo a questa promozione su questo videocorso che finisce domani sera e che è una promozione che andrà avanti ma non più alle stesse condizioni perché è da 6.97 fino a domani sera, stai giù, 3.97 e poi invece andrà poi avanti, allora adesso mi siedo qui così, mi saltate addosso quanto volete, oh così che bello potermi sporcare tutto che meraviglia per voi Non mi sembra vero, anche quando mi alzerò sarò marrone più sporco Quindi fino alle 24 di domani sera costerà 3.97, poi farò 15 giorni 4.97, 15 giorni 5.97 e poi inizierà il prezzo normale E quindi niente, io volevo fare questo video per dirvi che avete ancora questi due giorni e più che tutto è per voi perché tanto poiché ha bisogno man mano che si va avanti di allevare un cucciolo e poi non si vuole trovare sì ecco, ah che bella questa lavata Poi più sono bagnato e più puzzo più gli piace a loro E poi la gente se lo compra lo stesso il videocorso, questa cosa come vi ho già detto nella diretta dell'altro giorno l'ho proprio fatto con voi e mi piacerebbe diffonderlo specialmente con quelli non i miei clienti Cioè quelli che gli do i cani e poi li seguo io, quelli che hanno preso cuccioli da altre, di altre razze e tutto, però riuscire a crescere il cucciolo Che possa diventare un cane affidabile, credetemi, è qualcosa di veramente importante, guardate che bello il tigrato Perché invece è un disastro quando dopo il cucciolo noi gli vogliamo bene, magari fa anche la guardia e tutto, abbiamo imparato, abbiamo sbagliato qualcosa e non funziona niente Poi poi la gente ha una depressione totale perché a volte poi il cane fa certe rimostranze solo con qualcuno dei familiari Quindi di mezzo ci sono i genitori, se danno via il cane, poi un figlio ci sta male, l'altro non esce più di casa perché il cane le corre dietro Quindi ho fatto questo videocorso sviluppato in 45 punti importanti Perché se voi li allego sempre, li andate a vedere, vi garantisco che il 99 delle cose che voi a mente così da essere umani fareste per risolvere, per vivere questi 45 punti Nel videocorso vedrete che è tutto all'incontrario ed è quello che mi ha stupito a me della cinofilia, a un certo punto ho trovato, vieni dai Ho poi fatto il modo di fare questa cinofilia naturale e dalla cinofilia naturale che seguo, guardate che carina che lei è, una femminuccia d'oro lei E' dello stesso sistema che utilizzo a recuperare i cani quando hanno magari morsicato, cani che poi prendo a 4-5 anni io che magari mi tengo Oppure seguo adesso con le consulenze online famiglie che sono sulle spine per i cani Quindi vi voglio dire, fino a domani sera alle ore 24, un videocorso che costerà poi fisso 6,97 lo pagate 3,97 Poi se non ce la fate non c'è problema, ma poi da mercoledì, si è messa lì vicino, io l'adoro questa femminuccia così bella La pagate poi già invece di 3,97 da mercoledì mattina 4,97 poi andrà avanti fino ad arrivare al suo prezzo definitivo 6,97 perché dura 6 ore ed è veramente un videocorso indispensabile e importante per chiunque prenda cani Specialmente sanno un po' di forte carattere Ok vi saluto, vi auguro a tutti buona festa di questo primo maggio E basta, ricomincia, andiamo a piovere un po' ma per me è sempre una delizia starmi sotto la pioggia con i cani A presto!